Passa dai derby la corsa salvezza del Gallipoli, la squadra di Giovanni Cavallaro sconfitta nel giovedì di Pasqua dalla Palmese in casa e agganciata in quintultima posizione dal Gravina, ha interrotto una serie positiva di quattro partite consecutive senza vittorie e ha visto complicarsi i piani di salvezza diretta. Il distacco dal Fasano, oggi dodicesimo e prima squadra che, se il campionato di Serie D, Girone H, dovesse finire oggi festeggerebbe la salvezza e di cinque punti, un gap che andrebbe colmato in altrettante giornate in cui Mugnoz e Soci affronteranno ben quattro avversari e pugliesi, tutte con dichiarati obiettivi ancora da raggiungere. Si parte domenica 7 aprile dal sentito derby di Casarano, di fronte una squadra fresca di aggancio al quarto posto a pari punti con il Nardò e impegnata nell'inseguimento sul podio del campionato. Una settimana dopo incrocio salvezza al bianco con il Gravina, formazione che oggi condivide il tredicesimo posto con i giallorossi a quota 30 punti con un più uno sul Berletta e un più due sull'Angri. Proprio i campani saranno avversari del Gallipoli in casa nel penultimo turno della competizione, in agenda domenica 28 aprile. Prima però sarà tempo di un altro derby, ecche derby, trasferta proibitiva sul campo della capolista Team Altamura che il 21 aprile potrebbe festeggiare la promozione proprio nel match del D'Angelo. Chiusura di campionato con un altro impegno esterno complesso, quello del 5 maggio al Tursi contro il Martina, incroci dal coefficiente di difficoltà elevato che potrebbero condurre ad altri derby in chiave play-out. Nel novero delle quattro partecipanti, infatti, l'unica intrusa potrebbe essere l'Angri, preludio a un finale di stagione caldissimo.